Ciao a tutti ragazzi per il torno di questo nuovo video, sono Rekito e oggi siamo nella UH... Sì, André! André! Ok, ho cominciato... Non ti staccava venuto un cazzo... Ciao a tutti ragazzi per... Ricominciamo tre... Un attimo! Ricominciamo un attimo per me... Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Rekito e tutti e tre mi pagate lo torino perché mi avete strutturato un tipa Ragazzi siamo qui nel UHC, finalmente l'abbiamo finalmente portato Comunque, devo precisare una cosa, tu sei Nikots, tu sei Rekito, io sono André, no... No, no, io non sono Nikots, io sono un ghoul! Sai che è il cane, chi è il giappone? Sono famosi in tutto il giappone! Questa qua è la lobby... Questa qua è la lobby, l'abbiamo un po' cambiata perché... E fa cagare perché sarà fatta l'altro... Due persone non si sono presentate alla intro a lui... Cioè, Antun e i Manux! Che io ti ricordo di non strillare perché tu sei tante triplo! Poi ragazzi, benvenuti alla prima sessione del UHC, serve uno strato da Game Mosting, quindi ringraziamo che mosting... Eh, serve settato da Nikots e il lobby che era da me e i franci... E io vado a leggere... Eh, io e Rekito, ci siamo stati tutto il tempo a scaccolarci... Ragazzi, le regole, non si può fare Mining a Tunnel, chi uccide prima del via del UHC vera spulso o i tablayers e buona fortuna! Bella a tutti! Eh... Io non ci sono le devi provare! Non mi fai! Non mi fai! Non mi fai! Ok, ragazzi, quindi adesso vedremo a dire da sfruttare siamo quattro team... Nikots... no, sì, quattro team... Blu, dark, dark, blu... Poi X-Francis che è gold, Android 4 che è green e Rekitole che è nero! Rekitole è nero! Esatto! È nero, è nero! Ok, ragazzi, adesso vedremo a dire da sfruttare tutti, ci metteremo nelle nostre stanze che abbiamo grano nel mio TeamSpeak che troverà... Il mio e X-Francis TeamSpeak che abbiamo fatto tutti noi! Eh, trovate... troverete il link qua sotto lì qui... Si prende i meriti intanto! Adesso dalla console, ragazzi, metterò il comando che ci trasporterà tutti in un angolo di questo mondo da mille blocchi... Ok, ragazzi, ci siamo mutati, sono passati dal casino più totale al silenzio... Allora, è la prima volta che faccio... È la prima volta che faccio un OHC, quindi non so bene come funziona... Io provo a prendermi la roba in legno, poi fare l'upgrade in roccia e poi con la roccia trovare il ferro per farci un'armatura o un qualcosa... Certo, se mi trovano e mi ammazzano subito ci stanno quei due, X-Francis e Nikos che sono esperti nelle UHC... Mentre gli altri... È la prima volta, credo, che ci giochiamo... Allora, mi apposto qua... Che c'è una specie di grotta, se scavo un po' la trovo... Se mi trovano subito sclero... Metto il WorldCraftingTable, mi faccio un piccone... Facendolo bene... E poi... Ok, fatto... Upgrade subito... Ora... Me lo porto con me questo... Cos'era? Un'ombra? Oddio... Sono stato più veloce degli altri a fare l'upgrade... Bene... Questa è una cosa positiva... Mi dovrei fare pure una spada, che dite? Se mi arrivano da dietro... Quasi quasi... Dovrei quasi quasi trovare una grotta... Mi faccio una spada e poi cerco una grotta... Che è la meglio cosa... Così se trovo del ferro è il top... Perché almeno c'ho anche la... Mi faccio subito la... La fornace... I blocchi mi bastano quelli... E' perfetto... Spaccamo qui... Ok, a caso... Intanto le... La chat... Cercherò di fare meno tagli possibile... A parte ora che cerco una caverna... Perché non ha... Non ha senso... Spero che ci ha teleportati tanto distanti... E non un appiccicato all'altro... Perché sennò veramente... Sarebbe pure da rimediare... Uh, uh, uh... Ok, Andri ha perso... Ha perso... Mezzo cuore... Io non voglio rischiare di perdere i cuori... Quindi scendiamo piano piano... Ok... Dai, ma che razza di grotta è questa? A proposito di grotta... A parte che qui non si rigenera il cibo... Cioè, non si in genera le... Le... Sì, le colciotte sì... Ma il cibo no... Però boh, vabbè... Ok... Prendiamo il carbone... Ok, Nico ci dà le istruzioni... Prendiamo del carbone... Sembra che sto facendo un tutorial... Ok... Così col carbone faccio sia le torce... Che... Magari quando usci... Devo cuocere... Il ferro... Se lo trovassi il ferro magari, ovviamente... Ok, mi bastano... Così prendo... Faccio così... Facciamo tutte e tre sti cavoli... Tanto poi faccio così... E ce n'ho altri... Ottimo... Qua è una caverna l'ho trovata... Ora è da vedere solo se c'è un po' di ferro... Bello così... Ok, questo qui è un piccone... Cioè mi ci faccio la spada... Però... Nel senso sono tre... Almeno posso farmi subito la spada in ferro... Che è ottimo... Poi non so se farmi l'armatura... O se farmi... O se farmi il... Il piccone... Perché se trovo i diamanti... Però diamanti è un po' complicato... Io mi faccio un'armatura a sti gran cavoli... Qualcun altro? Adria ha perso mezzo cuore... E Franci uno... Ok... Io mi faccio... Mi faccio una spada... Allora praticamente... Ora vi spiego... Vi dico la mia... Ok... Mentre stanno parlando... Vi dico la mia... L'HC credo... Che funzioni così... Allora tu se... Ci si divide... Nel mondo diciamo... Ci si divide... Uno a destra... Uno a sinistra... Uno al centro... Uno dietro... Completamente a casa... Insomma... E si fa... No... Nel mentre sto leggendo la chat... Ecco perché vado... Vado a tratti... E si fa praticamente... Eh... Ci si fa... Piano piano... Come una survival... Sempre... In modo che diventi sempre più forte... E poi... In caso ti arriva poi... Un nemico... Pwpare in una maniera bestiale... Ho anche... Da mangiare... Ho 5 di ferro... Mi ci faccio... Le scarpe... Perché... Chi non va in giro... Senza scarpe... Eh... Giusto... Giusto... Quasi quasi... Non so se farmi il picco... No... Non me lo faccio il piccone... Mi faccio... Il caschietto al massimo... Se ce lo faccio... Si ce la dorei fare... E mi rimane un lingotto... Che poi userò... Devo stare attento a non perdere i cuori... Per danno da caduta... O altre cose... Di qui... Magari c'è un altro po' di ferro... Che è la cosa che cerco io... Manca un po'... Manca un po' però continua... No... Manca un po'... Posta che non trovo mob... Soprattutto scheletri... No... Niente... Sono l'uomo più sfigato... Alla ricerca di ferro possibile... Immaginabile... Sarebbe magari da farsi una mappa... Solo che... Io essendo... Avendo giocato poco con... Di survival sul computer... Non so come si crafta una mappa... Però mi sa con la bussola... Per la bussola serve... Non so... Non mi ricordo se la... Qualcosa di redstone... Poi ditemi se sbaglio... Qua c'è anche rifornimento di cibo... Non so dove andare... Si sta facendo notte... Porco Giuda... Non ho trovato una pecora io... A parte anche se... Anche se trovo la pecora... Ci stanno loro che... Se non dormono... Rimane così però... Ma dopo... Non mi ricordo cos'è... Questo hot topic... Mesa la fornace... Questo achievement... L'achievement qui... Io qua chiudo... Tanto le torce... E scavo... E' la cosa migliore da fare... Tra un po' chiudo l'episodio... Quindi... Ci salutiamo con io che faccio il tunnel... Vi racconto insomma quello che farò... Magari nei prossimi episodi... Cercherò di trovare appunto... Un altro po' di ferro... Per farmi full ferro... E poi girerò... Magari con questo ponte... Che sto facendo... Per cercare dei diamanti... E mentre a caso... Sono sceso... Ho trovato una grotta... Buono... Basta che non mi perdo la strada... E' buono... Anche perché... Non ho legno... Cioè non ho abbastanza legno per rimanere... Però intanto il ferro l'abbiamo trovato... Mob non ce ne sono... Situazione ai cuori... Andri con mezzo... E Franci meno uno... Andri con mezzo e meno... E Franci con meno uno... Lì c'è altro ferro... Io metto le torce da dove vengo... Non mi fido assolutamente a saltare... Abbiamo sette di ferro... Sento anche l'acqua... Però mi sa che qui... Sì qui è finito... Ok... Buono buono... Magari metto una... Lascio una torcia qui perché... Magari spona qualcuno... Io non voglio che spona qualcuno... Ho messo che ho sentito uno scheletro... Possibile... Boh... Io prendo il ferro... Beh... E come Grottan abbiamo trovato una buona... Scavando totalmente a caso... Un po' di ferro l'abbiamo trovato almeno... Spero di riuscirmi a far fu il ferro... Ammazza quanto... Vai così... Bello per me... Poi magari dopo questo... Mi faccio il piccone... E continuo il tunnel... Per arrivare ai diamanti... Insomma... Guarda il ferro... Finita qui... Bella sta grotta... Mi è piaciuta... Complimenti alla grotta... Io per paura... Per non saperne leggere... Ne scrivere... Chiudo eh... Ma... Oh... Stavo per cadere di sotto... Da dove sono venuto io? Da... 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 Da dove non ne ho idea... Da qui... Ok... Perfetto... Perfetto... Mi faccio un buchetto... Dove metto fornace... E roba... Dovrà pure torna su... A prendere del legno... È poco da dire... Quindi... Sistemiamoci qui... Io aspetto che finisce il ferro... Nel mentre... Vi saluto... E vi mando... No... 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 Per l'outro... Ok... Nel mentre che finisce il ferro... Bella... Bella... Stavo facendo l'outro... Infami... Vabbè... Bella ragazzi... Bastardi... Vabbè... I'm waiting for you...